Il fatto che alcuni di voi, cercando lo scoop, hanno scritto prima che uscissero i comunicati, sbagliando completamente il nome del farmaco, ho letto che l'ettrozolo è stato da voi catalogato come stimolante, oppure come steroide anabolizzante, o anche come appartenente alla grande famiglia degli steroidi. Questo è tutto falso. Il lettozolo è un inibitore non steroideo dell'aromatasi, non è una sostanza doppante per le donne. Ripeto, non è una sostanza doppante per le donne.